Buonasera, benvenuti a questa edizione del TV giornale di Telestense. Questa sera parleremo della cronaca giudiziaria, in particolare con la conferma in appello per l'ergastolo a Patrick Ruzzo e Constantin Fitti, responsabile insieme a Ivan Paidec dell'omicidio Tartari, parleremo anche di multe e di un verbale che è stato notificato dai carabinieri ad alcune imbarcazioni abusive nella darsena di Ponte Lago Scuro, poi le iniziative legate ai 50 anni del paglio moderno di Ferrara, ancora parleremo di Cispadana e poi ci occuperemo di nuovo dei rifiuti, in particolare il Movimento 5 Stelle si chiede quanto costano le imparazioni telecamere, parleremo anche di economia e di occupazione con le start-up innovative, vedremo a Ferrara a quante sono, come sono, se aumentano, se crescono, ma anche di disoccupazione in particolare di quella giovanile. Ma partiamo dalla cronaca con un gravissimo incidente stradale, due camionisti sono morti in un incidente frontale verso le 2 di notte sulla statale Romea, nord di Ravenna, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri della stazione Savarna, un tir autoarticolato guidato da un italiano di 41 anni, scarico e finito sulla corsia opposta, forse per un colpo di sonno del conducente. Il camion, dopo una prima carambola, con un rimorchio di un secondo tir che trasportava Pollama, si è scontrato con un furgone carico di pesce condotto da un romeno di 33 anni. sono morti i conducenti del primo tir che procedeva in direzione di Ferrara e del furgone illeso il terzo uomo. L'incidente è avvenuto al chilometro 16 della statale, intervenuto il 118 con un'ambulanza e un'automedica e per diverse ore la Romea è rimasta chiusa al traffico. Lo dicevamo in apertura, è stato confermato in appello l'ergastolo a Patrick Ruzzo e Constantin Fiti, responsabili insieme a Ivan Paidec dell'omicidio Tartari avvenuto nel 2015. Concluso con la sostanziale conferma della sentenza emessa a febbraio nel processo svoltosi in primo grado a Ferrara, il processo di appello per l'omicidio di Pierluigi Tartari, il pensionato ferrarese ucciso in settembre 2015 a Ferrara dopo una rapina nella casa di Aguscello. La Corte di Assise di Appello di Bologna ha infatti condannato all'ergastolo con isolamento di urno, Constantin Fiti e Patrick Ruzzo, i due uomini di 21 e 25 anni, imputati per l'omicidio. Dopo poco più di tre ore di Camera di Consiglio, i giudici hanno confermato la sentenza di Ferrara che a febbraio 2017 aveva inflitto il carcere a vita ai due stranieri che uccisero Tartari insieme a un terzo complice, Ivan Paidec, processato con altro rito e condannato a 30 anni. Confermato anche l'isolamento, ridotto solo per Ruzzo, a due mesi dai 12 del primo grado. Mercoledì il giovane slovacco aveva accusato, tirandolo in ballo per questo assassino, anche Norbert Fer alias Igor Vaklavic, il killer serbo responsabile degli omicidi del barista di Budrio Davide Fabri e della guardia ecologica Valerio Verri, arrestato in Spagna a metà dicembre. Per un periodo Igor fece parte, infatti, della banda. Il fatto da cui scaturito il processo risale al 9 settembre del 2015. Fu in quell'occasione che tre uomini prima rapinarono e poi abbandonarono in un casone del forese Pierluigi Tartari, pensionato di 73 anni, aggredito a rientro a casa e poi ucciso per poche centinaia di euro. Tre imbarcazioni abusive nella darsena di Ponte Lago Scuro a denunciarne la presenza. Già nell'estate scossa era stata la Lega Nord di Ferrara, si tratta di natanti che da oltre dieci anni sarebbero ormeggiati senza concessione. Ma ieri i carabinieri hanno anche notificato all'associazione che li possiede una multa e un verbale con cui si chiede di rimuovere le imbarcazioni. Feste in nero su una tanti ormeggiati abusivamente danni nella darsena di Ponte Lago Scuro e questa è la denuncia fatta mesi fa dalla Lega Nord che ha anche presentato un'interrogazione in regione. Ora la denuncia del Carroccio ha avuto una risposta con l'intervento ieri dei carabinieri. Una battaglia sull'abusivismo, una battaglia su alcune associazioni che non lavorano come devono lavorare. Ieri è successo, dopo l'esposto della Lega Nord, che i carabinieri hanno notificato dei verbali con delle richieste ben precise per quali il ripristino dei luoghi, lo spostamento di questi natanti che sono degli houseboat e si richiederà il canone per tutti questi anni di abusivismo. Qua parliamo di dieci anni di abusivismo, la Lega lo aveva denunciato, lo ha esposto anche all'assessore regionale nel quale ci ha confermato, con i documenti che ho esposto proprio poche settimane fa, che questa è una zona del demanio e questi natanti non devono essere in questa posizione, per cui ci aveva già confermato l'abusivismo. Seconda conferma è arrivata dai carabinieri di ieri nel quale hanno notificato questi verbali. I carabinieri avrebbero anche multato l'associazione che possiede i natanti, per la quale però potrebbero esserci nuovi guai, visto che i militanti della Lega hanno denunciato anche affitti in nero della struttura. Noi abbiamo denunciato proprio poco fa con un video, questa è una zona abbastanza nascosta, con un accesso solo attraverso delle chiavi che non hanno tutti. Il titolare di questa attività ha le chiavi d'affitta in nero per attività private. Noi stessi abbiamo affittato questa struttura per 100 euro, l'abbiamo documentato, per cui chiederemo anche alla Guardia di Finanza che si attivi in questo senso. È un'associazione che ovviamente ha avuto dei finanziamenti pubblici di svariate migliaia di euro dal Comune di Ferrara per attività turistico fluviale. E ora parliamo di Paglio, perché è stato presentato oggi il programma delle celebrazioni del cinquantesimo anniversario del Paglio moderno di Ferrara. Una cena di gala in onore del Paglio e della sua storia a Palazzo Pendaglia, sede dell'istituto alberghiero Orio Vergani, il prossimo 28 aprile. Poi il 12 e 13 maggio gli antichi giochi delle bandiere stensi e dal 19 le tappe tra corteo delle contrade, benedizioni dei ceri e molto altro che portano alle corse del Paglio previste per domenica 25 maggio. Questo in linea di massima al programma dell'edizione del Paglio di Ferrara, che quest'anno compierà 50 anni. Sarà un anno dedicato, mi viene da dire, sotto il fil rouge della parola cultura, quello che ha rappresentato per la nostra città il mondo del Paglio. Quindi mostre fotografiche, mostre rievocative di tutto quello che è stato il percorso che questa associazione ha saputo compiere per la città. filmati degli anni Sessanta, fino a quel percorso che ci porta ai giorni nostri. Le gare del Paglio affondano, come si serve le proprie radici, nell'antica storia di Ferrara. Il primo Paglio, di cui si abbia notizia, risale al 1259. In epoca moderna le gare vennero riprese nel 1933, poi interrotte a causa della guerra, e infine riprese mezzo secolo fa. Non sono tante le associazioni che possono vantare una storia di questo tipo, ma soprattutto arrivare ai 50 anni con questa vitalità. Sono stati 50 anni di gare, di corse, di vittorie, di sconfitte, ma soprattutto sono stati 50 anni di vita e di amore per il Paglio. Amare il Paglio vuol dire amare Ferrara, vuol dire amare la storia della nostra città, amare le sue tradizioni. Le celebrazioni del 50esimo cominceranno l'8 febbraio con il Carnevale degli Estensi. In maschera, nella Ferrara del Rinascimento, un ciclo di iniziative molto intenso che proseguirà sino a domenica 11 febbraio, mentre tra ottobre e dicembre sarà allestito un percorso espositivo dedicato alla storia dei primi 50 anni del Paglio moderno. Tra le novità, la partnership instaurata con B per Banca, nuovo main sponsor del Paglio di Ferrara. Ci è sembrato, leggendo la storia del Paglio, che compie 50 anni quest'anno, quindi buon compleanno, ma un Paglio decisamente adulto, che le dinamiche, la gente, il valore sociale e molto che culturale di questa manifestazione valesse assolutamente la pena di creare un parternariato che durerà per tre anni. Ferrara non è più un'isola felice, sempre più fatti lo testimoniano da città in prima fila per qualità della vita, coesione sociale e benessere dei cittadini. Oggi appare sempre più degradata e abbandonata. È questa la tesi da cui è partito l'incontro pubblico che si è svolto ieri sera a Ferrara, organizzato dal Movimento 5 Stelle, con la presenza dei deputati Vito Crimi e Vittorio Ferraresi. Nonostante i tentativi di questa amministrazione di snocciolare dati positivi sulla criminalità, spiega in una nota Vittorio Ferraresi, la sensazione di impunità e insicurezza è palpabile nell'aria. La verità è che molti cittadini di tutte le età, in particolare anziani e donne sole, ormai convivono con la paura di uscire di sera, soprattutto se soli. E, ha concluso il deputato, hanno ragione. E ancora botta e risposta tra Movimento 5 Stelle e Regione Emilia-Romagna, dopo la lettera arrivata dalla Commissione per le Petizioni del Parlamento Europeo sul Cispadana. Vediamo perché. Con l'autostrada regionale Cispadana non andiamo nella giusta direzione, lo sosteniamo da sempre e ora anche la Commissione del Parlamento Europeo lo certifica. Non utilizzano giri di parole ai due deputati del Movimento 5 Stelle, Michele Dell'Orco e Vittorio Ferraresi, a proposito della lettera che Cecilia Wickstrom, Presidente della Commissione del Parlamento Europeo per le Petizioni, ha inviato alla Regione Emilia-Romagna, accogliendo le osservazioni presentate da alcuni cittadini modenesi preoccupati dell'impatto economico e ambientale dell'opera. La Commissione, continuano i due parlamentari, nella sua valutazione parla di possibili danni irreversibili alla salute dei cittadini e all'ambiente, condivide gli allarmi sulla qualità dell'aria e ridicolizza la compatibilità ambientale rilasciata con oltre 200 prescrizioni. La Cispadana ha tutte le carte in regola ed è stata progettata per decongestionare la viabilità e per permettere un migliore collegamento dell'Emilia-Romagna con il Nord Europa ed è sostenibile dal punto di vista ambientale per la qualità dell'aria e dell'ecosistema. Sono questi invece i punti principali contenuti nella lettera che la Regione Emilia-Romagna sta predisponendo in queste ore per dare una risposta alle osservazioni della Wickstrom. L'infrastruttura è infatti una delle priorità strategiche della Regione, tanto che Viale Aldo Moro l'ha finanziata con oltre 179 milioni di euro. Siamo a favore di un'infrastruttura leggera al servizio del territorio, ma non di un'autostrada a pagamento al servizio delle lobby, puntualizzano i deputati del Movimento 5 Stelle. I problemi di viabilità e di competitività, dichiarano i pentastellati, non si risolvono costruendo una nuova autostrada che serve solo a portare clienti sulla A22 del Brennero. L'obiettivo di ridurre la popolazione, esposta a concentrazioni di polveri superiori al valore limite giornaliero dal 64% all'1% entro il 2020, è contenuto nel piano aria approvato nel 2017, sottolineano gli assessori regionali Raffaele Donini alle infrastrutture e Paola Gazzola all'ambiente. La Regione, che sta attendendo l'adeguamento del progetto definitivo sulla base delle prescrizioni via e la proposta di piano economico finanziario dell'Opera, ha comunque ribadito con forza il proprio impegno per realizzare la Cispadana, che, continua Viale Aldomoro, proseguirà con determinazione per tutto il mandato. Ci spostiamo nel basso ferrarese. I sindacati ferraresi sono fortemente preoccupati per la sorte che avranno i servizi sociali del comune di Yolanda di Savoia, dopo la decisione dell'amministrazione di uscire dall'Unione Terre e Fiumi. I segretari di CGL Cisle Will, Cristiano Zagatti, Paolo Baiamonte e Massimo Zanirato hanno incontrato il sindaco di Yolanda Elisa Trombin per capire quale modello organizzativo verrà adottato per la gestione di questa macchina complessa che ha il compito di tutelare le fasce più deboli della popolazione. Un incontro largamente insoddisfacente, privo di contenuti concreti, scrivono i rappresentanti sindacali in una nota. Manca un'accurata pianificazione del settore. Stiamo valutando la possibilità di scrivere formalmente al prefetto. Quanto ci costano le telecamere che verranno posizionate accanto ai cassonetti per scongiurare il fenomeno sempre più frequente degli abbandoni di rifiuti? Vediamo. Quanto costeranno le fotocamere che saranno installate nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati? E' questa la domanda che pone un'interrogazione presentata al sindaco con un'interpellanza in consiglio comunale a Ferrara dal Movimento 5 Stelle. Le fotocamere dovrebbero prevenire il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti accanto ai cassonetti che è effettivamente aumentato in città da quando è stato adottato il sistema delle calotte per misurare l'effettiva quantità di rifiuto conferito da ciascun nucleo familiare. Il Movimento 5 Stelle chiede quanto costerà il sistema in termini di installazione e manutenzione e a chi sarà affidato. Intanto il comitato MiRifiuto, nato nel 2017 proprio sull'onda delle polemiche legate all'installazione delle cosiddette calotte, ha chiesto formalmente all'assessore Caterina Ferri di far parte dell'osservatorio rifiuti. L'osservatorio rifiuti è un gruppo di monitoraggio dedicato al nuovo sistema di raccolta la cui istituzione è stata proposta da CNA e accolta dal Comune. In sostanza l'osservatorio dovrebbe individuare le criticità che andranno via via manifestandosi con l'introduzione del nuovo sistema di raccolta rifiuti e avanzare proposte per risolverle. I cittadini del comitato MiRifiuto, si legge in una nota, devono essere partecipi del processo di controllo e di proposta che l'osservatorio andrà ad assumere. Per questo chiedono un riscontro positivo della pubblica amministrazione e il sostegno via Facebook dei cittadini ferraresi. E ora parliamo di disoccupazione, in particolare di quella dei giovani tra i 15 e i 24 anni. Giuliano Guietti, presidente IRS Emilia Romani ed ex segretario provinciale della CGL di Ferrara, ha fatto il punto sulla situazione in regione, sottolineando come la provincia di Ferrara sia quella in cui il dato è più preoccupante. Mentre gli altri lavoratori, quelli adulti, aumentano, i giovani occupati restano il problema principale del mercato del lavoro in Emilia Romagna, oltre ad una precarietà generale ancora troppo diffusa. Lo certifica la CGL regionale, che oggi fa le pulce alla crescita, evidenziandone contraddizioni e squilibri, ad esempio tra i territori. Si allarga il solco tra i primi e gli ultimi, come a Ferrara. Il ritrado che ne esce è un quadro a luci e ombre comunque distante nei toni da quello dipinto anche dal report economico di fine anno, nel quale spiccava un PIL emiliano romagnolo pronto in prospettiva a superare quello del Veneto. In un contesto per l'Emilia Romagna oggi di PIL salito al più 1,7% e disoccupazione scesa al 5,9%, la luce rossa si accende quindi osservando il trend per la fascia 15-34 anni a confronto con quello di 10 anni prima. Il tasso di occupazione specifico cala dal 64,7% del 2007 al 50,5% nel 2016. Si tratta di oltre 14 punti percentuali in meno per l'Emilia Romagna contro gli 11 a livello nazionale, evidenzia l'Istituto di ricerca della CGL, l'IRES, sulla base dei dati Istat ed Eurostat. A commentare i dati oggi è proprio il presidente regionale di Ires, Giuliano Guietti, precisando che si tratta di valori distanti dalle medie europee. Fatta 100 la popolazione abbiamo 14 persone in meno occupate dentro questa fascia d'età. Vuol dire che la stessa cosa non è accaduta per le altre fasce di popolazione, anzi abbiamo avuto nelle fasce d'età più alte un aumento del tasso d'occupazione. Quindi vuol dire che c'è una parte di popolazione in questa fascia d'età che ha un problema drammatico di accesso o di entrata nel mercato del lavoro. Se poi consideriamo che gran parte di quelli che sono riusciti a entrare sono entrati su occupazioni precarie e sottopagate, qui abbiamo una linea di frattura che rischia di diventare, che è già un problema molto grosso, ma che rischia di diventare veramente drammatica. Un allarme per il lavoro dunque anche della nostra regione, allarme che deve essere ascoltato. Parliamo ora invece di start-up innovative a Ferrara, aumentano di numero ma non crescono di dimensioni, lo dicono i dati dell'osservatorio provinciale della Camera di Commercio. Le start-up innovative a Ferrara aumentano ma non crescono, aumentano di numero insomma, ma non crescono di dimensioni. Faticano a diventare grandi e questo il risultato delle ricerche effettuate dall'osservatorio provinciale dell'economia della Camera di Commercio di Ferrara. Al 31 ottobre 2017 le start-up innovative in provincia di Ferrara erano 39. Mediamente ogni anno ne nascono una decina con team composti per lo più da giovani di età inferiore ai 35 anni, il 17 e 95% del totale. Il numero dei dipendenti è più che raddoppiato in due anni. Il fatto però che ci siano ancora molti più soci fondatori che dipendenti in queste aziende ci racconta un sistema pulviscolare che vive soprattutto di risorse proprie dal punto di vista del lavoro. Il 18% delle start-up innovative ha in maggioranza soci under 35, percentuale più che tripla rispetto alle altre società di capitali. Il 26% è partecipato in maggioranza da donne e il 5% è guidato da persone non nate in Italia. È normale che le società siano piccole ma forse lo sono troppo. Secondo i bilanci 2016 le iscritte al registro, sebbene abbiano in media raddoppiato la propria produzione in un anno, dichiarano un dato medio del valore di produzione di 150 mila euro per un giro d'affari complessivo stimato di 6 milioni di euro. Le start-up, sottolinea la Camera di Commercio, sono spesso poco più di un'idea che però sotto la tutela del registro speciale ha il tempo di consolidarsi e infatti tra le iscritte del 2013 nessuna di esse è fallita. Merito dunque di un sistema di agevolazioni molto importante che riduce gli oneri fiscali e protegge il capitale sociale dalle perdite. Evidentemente questo sistema di agevolazioni consente alle imprese start-up di sopravvivere ma non le incentiva abbastanza a crescere e svilupparsi raggiungendo quando possibile la massa critica necessaria a proseguire la propria corsa in totale autonomia. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.